Nuovamente insieme amici delle auto della settimana direttamente dalla sede di Carmagnola, Queen Car uguale Paradiso del Risparmio. Grandi novità nella sede di Carmagnola, un ampio nuovo showroom interamente dedicato al marchio Lancia. Massimiliano? Sì, ben ritrovati qui alla Queen Car, siamo in Via Porino numero 6 a Carmagnola, nuovo showroom, tantissime offerte prima delle vacanze, addirittura arriviamo a sconti che arrivano fino a 5.000 euro di risparmio. E poi parola d'ordine, pronta consegna, pronta consegna vera. E allora buttate via il telecomando e andiamo subito a scoprire insieme le grandi offerte targate Queen Car uguale Paradiso del Risparmio. Nuova Lancia Y ibrida esenzione bollo, il canone parte da 129 euro al mese, grazie all'offerta Evergreen il risparmio arriva fino a 5.000 euro, ritiro oggi l'autovettura e inizia a pagare dopo le vacanze. Sempre 5.000 euro di risparmio sulla Lancia Y GPL, sempre pronta consegna, sempre il canone parte da 159 euro al mese. Siamo nella zona Abarth dove abbiamo dedicato uno spazio per tutte le vetture in pronta consegna come questa bellissima Abarth 1.4, 165 cavalli, il canone parte da 249 euro al mese. È arrivata adesso proprio la bellissima Abarth elettrica, veramente da provare su strada, veramente le prestazioni sono di Abarth, vedete quella Queen Car, super risparmio anche questo mese. Sulla nuova Abarth arriviamo un risparmio oltre i 5.000 euro e il canone da 389 euro al mese. Sempre risparmio anche in casa Fiat, sulla Fiat Panda ci sono 5.000 euro di risparmio, il canone parte da 129 euro al mese e sempre grazie all'offerta Evergreen assicurazione e manutenzione può essere inserita nel canone. E se cercate una Fiat 500, ibrida, GPL, benzina, tutte vetture in pronta consegna, sempre super risparmio, il canone parte da 139 euro al mese. E se parliamo di vetture elettriche non possono mancare quella Queen Car, le 500 elettriche con risparmio che arriva fino a 8.000 euro, il canone da 199 euro al mese. La cercate cabrio anche normale, tre porte abbiamo sempre vetture tutte in pronta consegna. Fiat 500X, 1000 benzina, 1300 turbodiesel, 1600 turbodiesel, GPL, cambio automatico, veramente tantissima la scelta e il canone parte da 159 euro al mese. Fiat Panda Cross, pronta consegna, chilometro zero, il canone 179 euro al mese. Cercate un'autovettura per le vacanze, la Fiat tipo Stescio Vego, Queen Car, c'è la in pronta consegna, iniziamo a pagare addirittura dopo le vacanze, il canone da 159 euro al mese. Sempre chilometro zero, sempre risparmio in casa Fiat, con la 500 L Cross, 1495 cavalli, full optional, il canone parte da 199 euro al mese. Passiamo al marchio Mitsubishi, dove Queen Car ha tantissime vetture in pronta consegna, come la Spestar, 1200 benzina, 5 anni di garanzia, vettura assicurabile con furti, incendio, casco, manutenzione, gomme da neve. Il risparmio, grazie alla rottamazione, arriva fino a 4.000 euro e il canone parte da 149 euro al mese. Queen Car vi fa risparmiare fino a 9.000 euro grazie alla rottamazione e gli incentivi statali sulle vetture PEV. L'Eclipse in pronta consegna può essere vostra con un canone di 389 euro al mese. Non mancano qui alle vetture alla Queen Car, aziendali del 2022, come questo bellissimo 3.800, un 1.500 turbodiesel da 130 cavalli, cambio automatico, ma la cosa importante è acquistarla oggi in pochissimo tempo, iniziarla a pagare dopo le vacanze con tutte le sicurezze, dalla garanzia, l'assicurazione e anche le gomme da neve. Può essere vostro il 3.800 con un canone che parte da 299 euro al mese. Pronta consegna anche in casa Jeep, sia come chilometro zero che come vetture aziendali, il 1.000 benzina, il 1.6 turbodiesel da 130 cavalli, sempre l'offerta Evergreen, cosa vuol dire? Pagare dopo le vacanze con un canone che parte da 259 euro al mese. Passiamo in casa Citroen con la C5, anche qui allestimento full option a Shine, cambio automatico del 2022 con pochissimi chilometri, il canone di 259 euro al mese. Perché acquistare una vettura aziendale alla Queen Car? Perché c'è un super risparmio dal prezzo di listino, perché hanno pochi chilometri, perché sono garantite come queste Volkswagen, esempio il T-Cross 1000 benzina, con un canone che parte da 199 euro al mese. Sempre in casa Volkswagen, passiamo al T-Roc 1500, cambio automatico, allestimento style, anche qui sempre full option, vetture recentissime, garantite sempre da noi dalla Queen Car, ricordiamo anche l'assistenza qui in Via Porino numero 6 a Carmagnola, e il canone da 289 euro al mese. Toyota Yaris 1000 benzina, sempre aziendale del 2022, chilometri dai 10 ai 15 mila, ne abbiamo diversi vetture disponibili, anche diversi colori, il canone da 189 euro al mese. 5.000 chilometri a questa bellissima Opel Mokka, benzina, il canone 259 euro al mese. Alfa Stelvio, 2.2 turbo diesel, pensate l'anno 2022, pochi anche quei chilometri, il canone da 389 euro al mese. Alla Queen Car trovate tutti i marchi, come la Ford, Esco Sport, 1000 benzina del 2022, il canone da 199 euro al mese. Volkswagen Tiguan, cambio automatico, addirittura col gancio traino, il canone di 259 euro al mese. Sempre risparmio, sempre in casa Fiat con il doblò elettrico, qui è la possibilità di acquistarlo con un canone di 389 euro al mese, grazie all'offerta Evergreen paghiamo questo canone, fra tre anni scegliamo se ridarlo indietro o continuare a pagare il vostro canone. Opel Corsa, aziendale, il canone di 119 euro al mese, Audi Q3 in pronta consegna, sempre aziendale con pochissimi chilometri, il canone di 399 euro al mese. Siamo in chiusura e siamo tornati all'interno del nuovo showroom di Casa Lancia. E attenzione perché per questo mese, in questo momento inaugurale di questo nuovo showroom, Queen Car vi dà l'opportunità di risparmiare fino a 5.000 euro sull'acquisto della vostra nuova lancia. Un esempio? Allora, un canone che parte da 129 euro al mese, la prima rata dopo le vacanze, pronta consegna sia sull'ibrido che il GPL. Lancia Y la trovate nel nuovo showroom di Casa Lancia, qui all'interno della Queen Car Car Magnola, ricordiamo l'indirizzo? Via Poerino numero 6, vi ricordiamo, oltre 500 vetture in pronta consegna. Grazie Massimiliano, grazie a tutti per l'attenzione e ricordate, sede Queen Car di Car Magnola, questo è il mese giusto per fare il vostro nuovo affare, per acquistare la vostra nuova auto, sempre con Queen Car uguale paradiso del risparmio.